Buongiorno, 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 mi pensi a Serena? Assolutamente Serena, ho appena preso un caffè, ora vado e scusate le domande. Sì, io devo dare l'allerno, credo che la mia principale difesa sia quella di dire la verità, cioè che non ero nella condizione di poter esercitare un potere di quel genere. E' molto in attesa di dare grande potenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.